Buon poveriggio e bentrovati a Caserta Sera Stadio, lo spazio dedicato al dopopartita. Diamo adesso la sigla e ci ritroviamo subito dopo. C'era il città di Termoli, terza forza del campionato, sulla strada del Treppini Matese nel confronto valido per l'undicesima giornata del torneo di eccellenza. La formazione basso-molisana si è presentata al Ferrante con numeri di tutto rispetto, in primis quello di miglior attacco del torneo, 35 gol realizzati in 10 confronti. Con la sconfitta del derby ad Alife da riscattare e la volontà di riportarsi in zona play-off, oltre il cambio alla guida tecnica del gruppo, il Treppini ha tentato di superare quelle amnesie che hanno contraddistinto le ultime prestazioni, facendo affidamento anche e soprattutto sul sostegno del pubblico amico. Allora, una partita sicuramente abbordabile, insomma, che cosa manca a questo piedimondo? Oggi veramente è mancata un pochettino di calma, però devo ammettere che è stato un bel primo tempo, sicuramente alla nostra portata, che è equilibrato. Sul finire del primo tempo, ahimè, ci ha messo anche un pochettino del suo l'arbitro ad annullare un gol, secondo il nostro punto di vista e di tutti che abbiamo potuto vedere, validissimo. Secondo lei il rigore c'era o no? Il rigore era un po' di dubbio. Un po' dubbio. Allora, che cosa manca a questo piedimondo, secondo lei? Beh, devo dire che a livello agonistico ci stiamo. Forse manca un po' di tranquillità, da quello che ho visto dagli spalti, quindi è un ambiente un po' surriscaldato, i giocatori... Sfiduciato, diciamo. Sfiduciato, ma i giocatori non sono tranquilli nel giocare. La partita è stata a livello agonistico molto sentita dai giocatori. Penso che sia stata poi, tra l'altro, anche condizionata dalle espulsioni da parte di Piedimondo e due espulsioni anche da parte del Temmino. Diciamo che c'era equilibrio fra le due squadre. Non ho visto, almeno personalmente, una squadra più forte dell'altra. Però, purtroppo, alla fine il risultato è stato quello. Sì, l'equilibrio l'ho visto pure io, quindi soprattutto fino alla metà del primo tempo. Poi gli episodi, come è solito, nel calcio, quindi danno ragione all'una e all'altra parte. Il campo ha consegnato uno spaccato chiaro, un importante 3-1 per il Termoli. Al ventunesimo gol di Mallardo, al trentesimo Riccio, al trentottesimo Pifiano, al sessantesimo Cirignano. Negli spogliatoi, a seguito di un attento esame di quanto è avvenuto, questo è ciò che i mister Precali per il Termoli e Romagnini per il Treppini-Matese hanno raccontato ai nostri microfoni. Allora, il cambio dell'allenatore, si sperava qualche scossone alla squadra, però non è stato così. Insomma, diciamo che l'avversario aveva la stessa potenzialità del Piedimondo, però, purtroppo, alla fine, quello che conta è la vittoria. Sì, speravamo che ci fosse un cambio di passo di oggi. Purtroppo la cosa non è avvenuta, anzi, assistiamo ad una partita brutta da parte dei nostri. Lo dico, l'ho appena detto anche ai ragazzi, che da domenica, anzi, da mercoledì, le cose devono cambiare il registro. Ho chiesto un attimo, abbiamo fatto un piccolo incontro con i giocatori al final termine della gara, perché c'è bisogno un attimo di guardarci in faccia, di guardarci negli occhi e di stringerci in questo momento di difficoltà. Ho visto negli occhi dei ragazzi la volontà, la voglia di dare una scosta che questa maglia merita, questa città merita. Oggi siamo stati indegni per la città, per la maglia che portiamo. Secondo te è mancata un po' quella carica necessaria, perché ho visto un po' sottotono per quanto riguarda il profilo psicologico dei ragazzi? E' questo quello che abbiamo detto, c'è mancato proprio quello, perché poi se vado ad analizzare la partita, perdiamo sì, ma perdiamo per due tiri del primo tempo, tra cui i contropiedi, quindi quando noi eravamo tutti sbilanciati in attacco. Diciamo che il secondo tempo in otto abbiamo giocato, noi abbiamo avuto la palla, lo si evidenzia, però è mancato quello che tu hai detto benissimo, è mancato la grinta giusta. Ricore? Ricore per il piedi mondo c'era o no? Non credo, non credo, no, no, no. Devo dire la verità che anche con l'arbitraggio non ci possiamo lamentare. Diciamo che oggi abbiamo il 90% delle colpe noi e se da stasera, da oggi, da questo istante, non riusciamo a fare un cambio di passo, non ci divertiremo. Ma io sono convinto e lo prometto a voi, lo prometto alla città, lo prometto a tutti, che da mercoledì ci qualificheremo per la Coppa e riprenderemo la nostra marcia. Mister, allora, una partita evidentemente caratterizzata anche da queste espulsioni, però diciamo che tutto sommato c'era equilibrio tra le due squadre, però alla fine vince chi segna di più. È vero, primo tempo noi bravi, bravo il portiero loro, abbiamo trovato questo 1-0, loro bravo, subito in due minuti ribaltare e mettere la partita sull'1-1, dopodiché di nuovo noi bravini nel ribaltare e andare sul riposo sul 2-1. Dopo è successo quello che è successo, un po' di spintoni, un po' qualcosa è successo, quindi l'arbitro ha deciso di cacciare un po' tutti e due i giocatori. Dopodiché abbiamo giocato 10 contro 10. Nel primo tempo mi sono un po' arrabbiato, perché hanno accertato una provocazione, non dovevamo fare quello che abbiamo fatto tra primo e secondo tempo, noi siamo venuti qua per fare una partita diversa, però devo dire poi bravi nel secondo tempo, specialmente nel gestire la palla. Quando hanno capito di tenere palla, di farla girare sul 3-1 specialmente, di cercare contatti, di cercare falli, siamo stati bravi e là penso che poi anche loro un pochettino innova e là penso che poi abbiamo vinto la partita. Secondo lei quel rigore c'era o no? Sinceramente, visto da qua, io penso che ha preso la palla, tra virgolette ha preso un po' la palla e forse nell'andare ha preso anche le gambe, tra virgolette, però se non prendeva la palla allora si poteva parlare di rigore, però è stato coraggioso e fortunato, perché in quelle scivolate se prendi le gambe rigore è netto. L'arbitro, che voto gli diamo? No, io non guardo l'arbitro. Per me la prima partita, io ormai sono arrivato al dodicesimo campionato di eccellenza, non parlo degli arbitri. Come dura per noi, come dura per i miei fuori quota che sono agli inizi, come dura anche per gli arbitri. Io penso che tutto sommato abbia avuto personalità, abbia retto la partita, penso che abbia fatto bene il suo dovere, dico la verità, è stato sempre sul pallone, quindi ha corso tanto, però io ripeto, non mi piace parlare dell'arbitro, mi piace parlare del Treppini in questo caso, del Città di Termoli. Io penso che anche lui abbia fatto in un ambiente anche un po' tosto, ma non dal pubblico e da parte dei giocatori, quindi una partita maschia, una partita vera, con due squadre buone, dico la verità, che faranno bene tutte e due. Gentili spettatori, la nostra trasmissione termina qui. Vi ringraziamo tutti e vi aspettiamo alla prossima. Sigla! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS